...quasi, eh? Aaaaaah! Ma quello vicino a voi è cascato o no? Se non è cascato vuol dire che non avete la scella pezzata che può fare questo. Eeeeee... Sulle lani! Poppa, poppa! Poppa, poppa! 1, 2, 3, 5! Hey, 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 hey Dream Music Solo il meglio degli anni 90 Sì, 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 sì Allora, adesso mi sembra che c'è da fare una foto ufficiale Quindi chiamo su il consigliere Bandi e il presidente del consiglio Crivelli Che vengono a fare questa foto Eccoli lì ragazzi Salutate il comune, questa è la foto ufficiale Precate, ci siamo Hola, hola Ciao 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 Questa potete cantarla anche voi Chi non la sa Le parole sono semplici Hola, hola Dovete cantare con noi Sulla voce Solo voi Siete bellissimi Siete bellissimi Ti non hai Ma forno Siete hellissimi Siete hellissimi Fiamo Siete hellissimi Becicias Accolistica Melbourne Bebonna Hallubon Ho Inter ta salutiamo la radio ncm 104 che ci ha trasmesso in diretta questa sera direttamente da secate e con i vinili non è per nulla facile non c'è i bottoni, non c'è i sink con dei vecchi tempi un'estate magica salutiamo Giovanni Giovanni Valone in pista con noi c'è ancora il sindaco c'è anche Roby il grande Roberto Minera in alto è ancora in pista con noi eccolo lì, sulle mani se ci sei salutiamo anche Davide che ci sta facendo la diretta ciao, ciao Davide ciao Franchina dove è mia moglie? ho perso mia moglie dove è mia moglie? ecco lì, ecco lì oh god oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501